Allora, come va il tuo lavoro da impiegata statale? Guarda che anche lavorando nel pubblico si può fare ricerca ad alto livello. Dr. Irene Polli. Hai vinto un altro bando. Sì. Il più grande finanziamento che l'istituto abbia mai avuto. Dov'è la mia galinella dalle uova d'oro? Il marker funziona. Finalmente si potrà vaccinare. Non possiamo permettere che una eccellenza italiana lascia il nostro paese, dottoressa Polli. Sto scrivendo un pezzo sul traffico illegale di vaccini e di virus. Lei sa di essere indagata. Gli scienziati avrebbero diffuso il virus dell'aviaria volutamente. A che scopo? Vendere i vaccini. Ci accusano di epidemia e tentata strage. Tanto è inutile. Cosa è inutile? Non sai quanti gli erodati di virus miei io a quegli stronzi? A pacchi! Hai i telefoni sotto controllo, tenta a quello che dici. Ma tu davvero vuoi restare qua? C'è come ce la faremo? C'è come ce l'ho detto? C'è come ce l'ho detto?